Allora, ben ritrovati in questa giornata tregenda, ma insomma, ce l'abbiamo fatta. Dunque, siamo giunti a metà ormai del nostro breve corso su Eloisa Belardo, insomma avrete già capito dagli incontri precedenti che potremmo dedicarci molto più tempo perché i due personaggi meritano la loro vicenda a degli addentellati notevoli con la cultura medievale intesa globalmente per la natura della loro storia, ma anche per le caratteristiche della loro formazione, della loro cultura. Nell'epistolario, che oggi leggeremo ancora con una certa abbondanza, troveremo di nuovo continui riferimenti a questo mondo culturale che sta esplodendo nel XII secolo, che è un secolo di svolta nella storia del Medioevo e anche nella storia del pensiero contemporaneo. Le volte scorse ci siamo soffermati sulla, quella che è chiamata la storia delle mie disgrazie, quindi la prima lettera che troviamo in questa collezione, anche se è una lettera un po' abbiamo visto sui generis, in quanto non si capisce bene, non si sa chi è il destinatario, forse la stessa Eloisa, però è una specie di approccio con la quale Abelardo avvia questo epistolario e alla quale Eloisa risponde con una lettera memorabile che abbiamo letto abbastanza ampiamente la volta scorsa. Segue la terza lettera, quella di Abelardo, che le raccomanda di restare salda nel suo nuovo ruolo monastico, di pregare per lui, insomma cerca in qualche modo di acquietare i sentimenti, la passione travolgente di questa Eloisa. Tenete conto che sono passati molti anni dalla loro separazione, quindi non è che si tratta di una reazione che Eloisa ha perché è ancora presa dalla libido della giovinezza. Eloisa è giovane perché la storia con Abelardo inizia quando ha 16 anni e quindi anche quando inizia l'epistolario 15-20 anni dopo, in cui si svolge l'epistolario, Eloisa è ancora giovane, però continua a coltivare in modo quasi ossessivo questa passione per Abelardo e in questa lettera quarta che oggi andiamo ad analizzare, troveremo molte di queste insistenze che Eloisa ha nel ricordare ad Abelardo che il suo amore per lui non è mai cessato. La lettera quarta inizia con questa intestazione, vi ricordo che negli epistolari medievali ma anche in quelli antichi l'intestazione ha anche una funzione tecnica, quando facevamo le scuole elementari, quelle vere che si facevano una volta, ci insegnavano fra le varie cose a scrivere gli indirizzi delle lettere e quindi c'erano interi manualetti per i bambini dell'elementare in cui si diceva come si deve intestare la lettera con le giuste frasette, quindi spettabile, spettditta, ma anche si sapeva come rivolgersi al vescovo, al papa, al sindaco e come doveva essere disposta nel foglio la lettera, quindi con la data in un certo posto, l'intestazione del destinatario in un'altra e il mittente in un altro punto ancora e questo ce lo insegnavano come farlo sulle buste, come farlo sul foglio, oggi non si usa più perché non si mandano più le lettere. La nostra impostazione è diversa da quella dei medievali perché noi siamo abituati a una forma strutturale che è quella del foglio più busta, mi correggo, eravamo abituati perché ormai queste cose non esistono quasi più, i medievali invece usano solitamente un foglio, gli antichi usavano una pergamena che si arrotolava, i medievali usano comunque un foglio che si arrotoli, che si pieghi deve portare all'inizio chiaramente l'intestazione con il mittente e il destinatario. In genere l'uso era che, anzi in genere, l'uso, l'obbligo formale, era che si mettesse prima la persona di maggiore rispetto e subito dopo quella di minore rispetto. È per questo che prima di leggervi la lettera quarta vi devo leggere come iniziava la lettera terza di Abelardo. Inizia così, ad Eloisa, sua dilettissima sorella in Cristo, Abelardo, a lei fratello nel Signore. Quindi dice prima il destinatario, poi il mittente. Leggiamo adesso quello che scrive Eloisa. A colui che è unico per lei dopo Cristo, colei che è unica per lui in Cristo. Il contrario, prima il destinatario, poi il mittente. Non ci avremmo fatto caso se non ce lo facesse notare la stessa Eloisa che subito dopo scrive Mi meraviglio mio unico che tu contro le norme epistolari, anzi contro l'ordine naturale delle cose, proprio all'inizio dell'intestazione della tua lettera, abbia usato anteporre me a te stesso, cioè una donna ad un uomo, una moglie al marito, un'ancella al Signore, una monaca al monaco e al sacerdote una diaconessa, all'abate una badessa. Secondo l'ordine giusto e decoroso, infatti, chi scrive a persone di pari o superiore dignità deve anteporre al proprio nome quello di coloro a cui scrive. Se al contrario si rivolge a degli inferiori, chi precede gli altri per dignità precede nell'ordine della scrittura. È interessante che in risposta a una lettera, cioè iniziando una lettera che poi diventerà una lettera piena di riferimenti alla loro vita personale, intima, Eloisa si soffermi su un aspetto apparentemente formale, cioè dice ad Abelardo che è Abelardo che ha sbagliato a fare l'intestazione. Per toglierci la curiosità di questa cosa e vedere se Abelardo se l'è preso o non se l'è presa, andiamo a vedere l'inizio della lettera quinta, quella in cui Abelardo risponde a Eloisa. Abelardo scrive così, trovandolo naturalmente, il servo di Cristo alla sposa di Cristo. Adesso mette ancora prima il mittente e poi il destinatario. La tua ultima lettera, nella quale mi hai mostrato il tuo turbamento e la tua offesa per la ferita che ti ho provocato, può essere riassunta, se ricordo bene, in quattro accuse. Nella prima mi rimproveri di avere anteposto il tuo nome al mio nell'intestazione della lettera che ti ho inviato contro le consuetudini epistolari, anzi contro l'ordine naturale delle cose. Poi procede con le altre accuse che vedremo. Ho deciso di rispondere singolarmente ad ognuna di queste accuse, non tanto per difendermi, quanto per insegnarti e per esortarti, affinché tu acconsenta più volentieri alle nostre richieste, proprio perché capirai che sono fatte per motivi ragionevoli. Per ciò che riguarda l'ordine capovolto, come notti, nell'intestazione della nostra lettera, se rifletterai con attenzione, vedrai che quella frase è scritta seguendo proprio le tue regole. Infatti tu stessa affermi che quando si scrive a qualcuno che ci è superiore, il suo nome deve precedere tutti gli altri. Cerca di comprendere che sei diventata superiore a me nel momento in cui hai sposato il mio signore e sei quindi diventata la mia signora. Felice baratto di nozze quello che innalza al talamo del sommore, colei che prima era la moglie di un misero uomo. Grazie ai privilegi che questo amore ti ha conferito, tu domini non solamente sul tuo precedente sposo, ma su tutti i servi del re. Allora non ti meravigliare se io, sia in vita sia in morte, mi affido soprattutto alle vostre preghiere, perché è noto che anche nel diritto pubblico la sposa può intercedere presso il padrone più efficacemente di un familiare, eccetera, eccetera. Quindi la diatriba fra i due procede in queste lettere di vai e vieni, dove apparentemente si soffermano sospetti puramente formali, insomma un po'. Però dietro c'è un contenzioso. Come tutte le persone che si amano, i due anche dall'altra parte coltivano ed emerge spesso nell'epistolario un profondo rancore. Eloisa è profondamente rancorosa nei confronti di Abelardo per averla obbligata ad entrare nel monastero, Abelardo è rancoroso con Eloisa perché non lo lascia vivere in pace. Adesso io ve l'ho tagliata giù in forma un po' grezza, però leggendo attentamente si leggono queste due dimensioni e i commentatori successivi, che sono tanti, hanno preso le parti sempre o dell'uno o dell'altra. A seconda appunto di chi scrive, della sensibilità di chi ha analizzato questo epistolario e anche di nuovi modi di leggerlo, andando quindi a comprenderlo sempre più via via che ci è più noto il mondo che ci sta dietro. Torniamo quindi alla lettera quarta e dopo questa prima accusa passiamo alla seconda, che dice mi ha molto colpito che tu abbia accresciuto la nostra desolazione, nostra vuol dire mia e delle monache, lei è badessa di questo monastero e quindi sotto di sé a tutte quante le monache che dipendono da lei. Mi ha molto colpito che tu abbia accresciuto la nostra desolazione quando avresti dovuto confortarci e consolarci e che ci abbia fatto piangere quando avresti dovuto asciugare le nostre lacrime. Non è possibile ascoltare ad occhi asciutti la frase che poni quasi alla fine della tua lettera. Se il Signore mi consegnerà nelle mani dei miei nemici ed essi mi vinceranno e mi uccideranno. O carissimo, con quale animo hai pensato una cosa simile? Con quale coraggio hai potuto dirla? Dio non dimentichi mai le sue ancelle al punto da farle sopravvivere a te. Nella lettera precedente Abelardo aveva scritto che vive in una situazione di pericolo di vita, perché a Abelardo è capitata una cosa, finché viveva nel secolo e quindi era un docente, un filosofo, un uomo di grande successo, non si preoccupava affatto delle regole della vita monastica, non risulta che mai abbia desiderato o espresso l'intenzione di farsi monaco prima della sciagura che l'ha colpito. Ma nel momento in cui lo diventa, Abelardo, come sempre fa nelle lotte della sua vita, prende la cosa sul serio. Nel momento in cui diventa monaco, diventa monaco da capo a piedi. Così monaco da trovarsi in conflitto con i monaci di tutti i monasteri nei quali si trova a vivere, tranne l'ultimo. Arriva in questi monasteri non con un ruolo di abate o di responsabilità, ma come comune monaco e comincia ad accusare gli altri monaci e l'abate stesso, non solo di non rispettare la regola, ma di comportarsi in modo assolutamente negativo, in modo tale che neanche i laici fanno cose simili. La vita nei monasteri medievali, quelle di oggi non so, era una vita molto varia, ovvero vi erano monasteri dei quali sappiamo, abbastanza per testimonianza degli abati o di chi ne scrive, che erano di rigidissima osservanza, quindi monasteri nei quali almeno all'apparenza la regola era rispettata e la vita del monaco era caratterizzata da una, dico totale, ma insomma tendenziale santità nei comportamenti e negli atteggiamenti. Vi erano anche monasteri nei quali invece la regola era totalmente trasgredita quando non ignota e la vita dei monaci era una vita trasgressiva. Il monastero in cui Abelardo capita è proprio di questa natura e quindi litigarata al punto con i monaci di questo monastero che dice ho rischiato la vita. Nel monastero successivo in cui si troverà ad essere responsabile del monastero addirittura cercheranno di avvelenarlo. In un altro caso litiga con l'abate perché quando si trova in un monastero dedicato a San Dionigi dichiara che questo Dionigi Areopagita in realtà non è mai esistito o se è esistito non è certamente l'autore delle gerarchie angeliche di un libro che ha influenzato fortemente il pensiero medievale, mettendo in discussione che il culto che veniva dato a questo santo avesse un fondamento storico e attirandosi quindi le ire di chi di questo convento viveva e da questo convento traeva anche i benefici che derivavano dal fatto che ci fosse il culto di un santo. Vabbè questa è la ragione per cui Abelardo scrive ad Eloisa che la sua vita è in pericolo ed Eloisa gli dice non dovevi neanche scrivermele queste cose perché in realtà quello che noi monache ci aspettiamo da te è consolazione non che ci metti delle preoccupazioni non sia mai che tu debba morire prima di noi ma vuole dire prima di me di fatto come sappiamo Abelardo morirà molto prima di Eloisa ed Eloisa non morirà di crepa cuore. Vi salto il resto del pistolotto che Eloisa riserva ad Abelardo riguardo questa cosa e passiamo invece a un tema più interessante. Allora, quanto più si sale in alto tanto più la caduta è dolorosa. Vi era forse qualcuna tra le donne nobili e potenti che mi superasse o eguagliasse per lo splendore della mia fortuna. Fino a quel punto poi la sorte si accanì contro di me e quanto dolore pote poi infliggermi. Quanta fama mi diede facendoci incontrare e quale rovina mi gettò poi addosso sempre attraverso il nostro incontro. Ancora attraverso te la sorte fu eccessiva con me nel bene e nel male né nell'uno né nell'altro ebbe misura. Mi rese prima la più felice di tutte per potermi rendere poi la più infelice di tutte. Così ogni volta che ripenso alle cose che persi sono consumata da uno strazio tanto più lacerante. Quanto più insopportabili furono per me le perdite inflittemi. Il dolore per la separazione che poi giunse fu grande. Tanto grande quanto l'amore che ci legava. La gioia di una illimitata passione è finita nell'illimitata tristezza del tutto. È grande l'indignazione che proviamo quando ci sentiamo colpiti ingiustamente. Per noi tutte le leggi e ogni giustizia sono state ugualmente stravolte. Infatti mentre godevamo le gioie di un amore furtivo e per usare un vocabolo più volgare ma più espressivo mentre ci dedicavamo ad amplessi illeciti, la severità divina ci risparmiò. Ma quando correggemmo l'illegittimità delle nostre vite e quando nascondemmo la vergogna dei nostri incontri adulterini con l'onore del matrimonio, l'ira del Signore abbatté con forza la sua mano su di noi e non tollerò immacolato quel letto che fino a poco prima aveva a lungo sopportato, contaminato. La prima cosa che colpisce di questa parte, di questa lettera, è il fatto che Eloisa considera la sua attuale condizione di badessa del paracleto, del monastero, una condizione infelicissima. Anzi, dice, se prima ero la più infelice di tutte le donne, ora sono la più infelice di tutte. Questa è una cosa abbastanza rilevante perché la condizione di Eloisa è una condizione che poteva essere da molte invidiata. Essere badessa di un monastero, metteva comunque in una situazione di tutela, di privilegio, poteva dedicarsi ai suoi studi, ai quali in effetti avrà continuato a dedicarsi, poteva anche incontrare a Belardo, i due si incontrano ogni tanto. Eppure lei considera questa condizione una condizione infelicissima, la quale non sa e non vuole rassegnarsi. Ed è la prima cosa che ci colpisce. La seconda cosa che colpisce è questa riflessione etica che fa andando a giudicare l'azione di Dio. E quindi dice, è grande l'indignazione che proviamo quando ci sentiamo colpiti ingiustamente. Mentre a Belardo continuerà a dire che la sciagura che lo ha colpito, se l'è meritata, se l'è meritata perché è andato contro le leggi divine e perché è andato contro la fiducia che Fulberto gli aveva concesso, Eloisa continuerà a dire che quello che è capitato a lei non era assolutamente meritato. E lo dice così, per noi tutte le leggi e ogni giustizia sono state stravolte. Quindi esiste una legge che è divina ed esiste una giustizia che è divina ma è stata stravolta. Infatti, mentre godevamo le gioie di un amore furtivo, non ci è accaduto nulla. Quando poi abbiamo aggiustato questa cosa sposandoci e addirittura vivendo castamente, perché nel momento in cui si sono sposati, sono poi vissuti uno a Parigi e lei in Bretagna, a quel punto siamo stati colpiti. La pena che tu dovesti subire sarebbe stata una punizione sufficiente per un uomo sorpreso in adulterio. Invece tu hai affrontato a causa di un matrimonio attraverso il quale pensavi di aver ormai ripagato ogni tua colpa, una pena che gli altri uomini subiscono come punizione del loro adulterio. Quindi la pena di levirazione di Abelardo si verifica nel momento in cui lui ha aggiustato la sua situazione, cioè si è sposato, quindi ha sanato il debito. Ciò che gli adultere causano ai loro amanti corretti, a te lo causò la tua legittima sposa e non mentre ci dedicavamo come prima ai piaceri dell'amore, ma quando già da tempo vivevamo separati e in fondo casti. Tu dirigevi la tua scuola a Parigi e io, secondo il tuo ordine, conducevo la mia vita all'argentoio insieme alle altre monache. Divisi l'uno dall'altra affinché tu ti dedicassi con più impegno alla tua scuola e io più liberamente alla preghiera o alla meditazione nella pagina sacra, le nostre vite erano più sante perché più caste. Proprio allora tu solo scontasti nel tuo corpo qualcosa che avevamo commesso entrambi, fosti solo nella pena ma fummo in due nella colpa e tu solo che meno avresti dovuto subisti l'intera punizione. Un'altra ingiustizia di Dio, eravamo in due e solo tu sei stato punito, oltretutto per una colpa che era mia, dice Loisa, perché io ti ho sposato. Ed è questa stata la ragione dei tuoi guai. Quanto più avevi soddisfatto i miei parenti umiliandoti a causa mia, ricordate quello che ci siamo detti le volte scorse rispetto all'idea che il matrimonio sia una condizione umiliante per un filosofo, e quanto più avevi innalzato sia me che la mia famiglia, un inciso su questa cosa. Qui Loisa fa un'affermazione che ha portato gli studiosi a ritenere che la famiglia di Loisa fosse una famiglia di rango inferiore rispetto a quella di Abelardo. Infatti dice avevi innalzato sia me che la mia famiglia. Quindi questo matrimonio che per te era svantaggioso, anzi un'umiliazione, che aveva portato un innalzamento del livello di prestigio mio e della mia famiglia. Per questo tantomeno meritavi quella pena sia davanti a Dio che davanti a quei traditori. O me misera nata per essere la causa di un così grave delitto. Le donne sono un grande e frequente motivo di rovina per gli uomini migliori. Per questo nel libro dei proverbi è scritto di guardarsi dalle donne. E quindi Loisa si assume la responsabilità di quanto è accaduto ad Abelardo. Ma lei è la causa indiretta di questo, ma la causa diretta è Dio. Perché è Dio che ha scelto di punire Abelardo in questo modo e lei di conseguenza. Satana ha esteso la sua naturale malizia fino a noi. Ha cercato di abbattere col matrimonio colui che non potè far cadere con la lussuria. Il diavolo al quale non fu permesso di ottenere il male dal male, usò il bene per ottenere il male. Dio mi fece almeno questa grazia. Il tentatore non mi trascinò nella colpa con il mio consenso, come quelle donne che ho ricordato prima, anche se le mie azioni gli sono servite per portare a compimento i suoi disegni malvagi. Ma se l'innocenza delle mie intenzioni impedisce che il mio animo sia macchiato e che io possa essere accusata di aver acconsentito a questo crimine, pure in passato ho compiuto molti peccati ed essi non permettono che io sia del tutto innocente dall'accusa di questo delitto. Qui Eloisa fa una riflessione molto sottile che parte dai principi etici di Abelardo stesso. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa, ve li riassumo rapidamente. Abelardo sostiene che la colpa non si debba ricavare dall'azione, non c'è colpa nell'azione, ma si debba ricavare dall'intenzione. E quindi Eloisa dice non è mai stata mia intenzione produrre ciò che è accaduto, io non ti volevo sposare. Vi ricordate nella seconda lettera quando dice più dolce per me essere chiamata tua amante o anche tua prostituta piuttosto che moglie. E questa è una cosa che lei continuerà a ripetere, io ti ho sposato perché tu hai voluto che ti sposassi e io ho preso il velo e sono entrato in convento perché tu hai voluto che lo facessi. Quindi di questo non ho responsabilità, neanche di fronte a Dio. Però dice in realtà ho commesso molti peccati in questa storia quindi non posso neanche dirmi del tutto innocente. Certamente ho meritato ciò per cui ora piango anni fa quando per molto tempo mi abbandonai alle lusinghe della sensualità. Meritai anche che la lunga serie dei miei precedenti peccati si trasformasse in pena. Questa conclusione dolorosa è la conseguenza del malvagio inizio del nostro amore. Eloisa sottolinea che quello che c'è stato di malvagio in quest'amore è stato l'inizio perché è caratterizzato da questa sensualità sfrenata. Ma quest'amore che era caratterizzato da questa sensualità è ormai mutato in un amore totalmente diverso. Non solo perché i due sono impossibilitati alla pienezza dell'amore coniugale, ma anche perché vivono lontani e ormai di fatto come monaci in un regime di totale castità. Ciò non toglie che l'amore almeno di Eloisa permanga e anzi continui ininterrottamente a crescere. Via via che andiamo avanti con la lettura delle sue lettere ci accorgiamo che Eloisa testardamente insiste sulla inossidabilità del suo amore. Che ora si è anche purificato di queste cose che all'inizio potevano averlo messo sotto una luce cattiva. Quindi Eloisa sempre meno comprenderà l'ostinazione di Dio nel punirla. Cioè lei continuerà a chiedersi ma perché io devo per tutta la vita vivere questa cosa quando la colpa insomma è stata abbondantemente spiata e inoltre non siamo più in un concetto di colpa. Lei quello che vuole non è più, a un certo punto dirà in una lettera, quello che tu mi puoi dare, quello che io ti chiedo sono parole al posto di cose. Quello che lei vuole da Abelardo e continuerà a dirglielo è parole. Io da te voglio parole, mi devi scrivere almeno perché questa è l'unica cosa che adesso posso avere di te. Ma in realtà quello che Eloisa desidera è la pienezza dell'amore di Abelardo che si esprima come si può esprimere, ma quell'amore l'è dovuto e Dio non glielo concede e Abelardo non glielo concede perché Abelardo continua ad insistere con Eloisa che ormai che è monaca deve pienamente sposare questo nuovo sposo che è Cristo e in qualche modo dimenticarsi di lui. D'altra parte anche Abelardo però non può venire meno a questa continua insistenza di Eloisa che lo richiama al fatto che lui resta suo sposo, in quanto suo sposo ha degli obblighi verso di lei. Voglia Dio che io sia capace di fare una penitenza degna di ciò che ho commesso, così che possa compensare a mia volta in qualche modo, almeno con un lungo e duro dolore, la pena della ferita che ti fu inflitta. Anche questo è interessante che quello che Eloisa vuole espiare non è una colpa contro Dio, è una colpa contro Abelardo. Quindi spera di poter fare una penitenza che la assolva di una colpa che ha commesso verso Abelardo. Ciò che tu sopportasti nel tuo corpo per un'ora, io accetterò di soffrirlo nell'intimo della mente per tutta la mia vita così come è giusto. In questo modo salderò almeno il mio debito con te, se non quello che ho con Dio. Se confesso apertamente la debolezza della mia infelicissima anima, non trovo una penitenza con cui possa placare Dio che accuso di averci inflitto con tutto ciò che ci accadde una ingiusta punizione. Sono ostile ai suoi disegni e lo offendo con il mio rancore invece di placarlo con la penitenza. Non ha senso parlare di pentimento per i propri peccati se, per quanto grande sia l'afflizione del corpo, la mente mantiene ancora la volontà di peccare e brucia dei desideri di una volta. È facile accusare se stessi confessando i peccati o anche punire il corpo in una soddisfazione tutta esteriore, ma è difficilissimo strappare dall'animo il dolce desiderio del piacere. Giustamente il santo Giobbe fece questa premessa, farò scorrere il mio eloquio contro me stesso, cioè lascerò libera la mia lingua e aprirò la mia bocca per confessare e accusarmi dei miei peccati. Poi aggiunse, parlerò della mia anima nell'amarezza. Scrive il beato Gregorio, alcuni confessano le loro colpe ad alta voce, ma non sono capaci di piangere nemmeno durante la confessione e dicono ridendo cose degne di essere accompagnate dal pianto. Chi invece parla delle sue colpe detestandole deve sopportare che l'amarezza l'invada mentre parla delle sue colpe, già condannate dalla sua mente e ora condannate anche dalla sua lingua. Ambrogio comprese davvero quanto sia rara l'amarezza della vera penitenza, dicendo, è più facile trovare chi abbia conservato la sua innocenza che chi si sia davvero pentito. Quei piaceri ai quali entrambi ci dedicammo totalmente quando eravamo amanti furono tanto dolci per me che non posso dispiacermene, né essi possono svanire dalla mia memoria nemmeno un poco. Da qualsiasi parte mi volga, quelle voluttà si mostrano sempre al mio sguardo e anche al mio desiderio. Queste visioni non mi risparmiano nemmeno quando dormo. Persino durante la solennità della messa, quando la preghiera deve essere più pura, le immagini o scene di quella voluttà si impossessano della mia infelicissima anima al punto che penso più ai piaceri sensuali che alla preghiera. Sospiro per ciò che erano potuto avere invece di dolermi per ciò che ho commesso. Ciò che facemmo, i luoghi e i momenti in cui lo facemmo, tutto questo è così infisso nel mio animo insieme alla tua immagine che ancora adesso mi comporto come se fossi con te. Nemmeno dormendo questi ricordi mi danno tregua. A volte un movimento del mio corpo o una parola inaspettata che non riesco a trattenere rivelano i pensieri del mio animo. O me è infelice, come è adatto a ciò che provo il lamento di quell'anima dolente. O me è disperato, chi mi libererà da questo corpo di morte? Volesse Dio che potesse aggiungere con sincerità la risposta che segue quell'invocazione, la grazia di Dio per Gesù Cristo nostro Signore. La grazia è giunta prima a te carissimo. Una sola ferita del corpo, separandoti definitivamente da questi desideri, ha operato una grande guarigione nella tua anima e Dio ti fu più propizio proprio quando sembrò esserti più ostile, come un medico fidatissimo non risparmia il dolore per ottenere la salute. In me la giovane età e la sua energia, l'esperienza così gioiosa di molti piaceri, accendono con forza i desideri del corpo che invitano a lasciarsi andare ai sensi. E questo attacco mi opprime tanto più quanto più è debole la natura attaccata. Esaltano la mia castità a coloro che non hanno scoperto la mia ipocrisia, che scambiano un corpo puro per virtù, ma la castità non è una virtù della carne, ma dell'anima. Ricevo qualche lode dagli uomini, ma non ho nessun merito presso Dio che giudica il cuore e le reni e vede in ciò che è nascosto. Quest'epoca mi giudica religiosa perché è un tempo in cui anche una religiosità superficiale non è considerata ipocrisia, dove basta non offendere il giudizio umano per ottenere grandi lode. Ma forse anche questa fragile devozione sembra in qualche modo degna di lode ed accettabile a Dio. Forse basta che esteriormente le azioni di una persona, qualunque ne sia l'intenzione, non siano di scandalo per la Chiesa. Basta che il nome di Dio non sia bestemmiato dagli infedeli e che presso gli uomini terreni non sia infamato l'ordine monastico. La grazia divina ci concede non solo di poter fare il bene, ma anche di poterci astenere dal male. Persino questo è un suo dono, ma è inutile astenersi dal male se poi non ci si sforza di far seguire il bene. Poi proseguiamo. L'elopio di Eloisa è incalzante, cioè è difficile poi fermarsi dal leggere quando comincia a partire con questa cosa perché veramente sembra di leggere il libro di Giobbe. Eloisa parte con una reprimenda nei confronti di Dio che è dialettica, cioè non si sta semplicemente sfogando, ma sta procedendo con la logica abelardiana di legare i pensieri insieme e di fare in modo che chi legge finisca per comprendere e in qualche modo condividere il suo dolore, ma anche il suo punto di vista. notate che emerge ancora il modello etico abelardiano, cioè lei molto modernamente dice la gente da fuori mi considera un modello, esempio, mi fa i complimenti, ma perché vede solamente l'esteriorità non sa cosa succede dentro di me, ma quello che succede dentro di me è che Dio conosce perché Dio scrute i cuori, è una cosa completamente diversa perché io non riesco a staccarmi neanche dal ricordo di quei piaceri di tanto tempo fa e continuo a riviverli e non solo continuo a riviverli, non voglio liberarmene, cioè non faccio uno sforzo per liberarmi di questo e cercare, come fa Belardo, di vivere, di accettare la mia nuova vita e viverla così com'è. Voglio restare legata a quella cosa lì perché quello è stato così bello, così dolce, così importante per me che è ciò che resta il fondamento della mia vita e se lo porterà dietro fino a quando abbiamo informazioni su di lei. È altrettanto inutile astenersi dal male e compiere il bene se non agiamo per amore di Dio. E qua un altro aspetto etico importante. Ciò che conta sono le intenzioni, quindi fare il bene in vista di qualcosa che non sia amare Dio non è fare il bene, non serve. È inutile astenersi dal male e compiere il bene se non agiamo per amore di Dio. A Belardo nell'etica dirà che il fondamento del peccato è il disprezzo di Dio. Si pecca solo nel momento in cui scegliendo di pensare, di orientare le proprie scelte in una certa direzione lo si fa coscientemente sapendo di andare contro la volontà di Dio. Se invece si avvia un processo che è legato all'idea che in quel momento ci siamo fatti di ciò che Dio vuole da noi e questo processo può anche portare poi a degli esiti inattesi, sbagliati o tragici, questo non comporta una colpa. A Belardo oserà scrivere, quindi poi sarà ovviamente condannato, che coloro che hanno accorgifisso Cristo non hanno commesso peccato, l'avrebbero commesso se non l'avessero fatto, perché nella loro concezione Cristo era un bestemmiatore e come tale andava punito. E quindi hanno fatto ciò che la loro coscienza, cultura, formazione, educazione religiosa, appartenenza, li ha spinti a fare. Che poi l'abbiano fatto o che non l'abbiano fatto è irrilevante. Ciò che conta è che la loro intenzione era orientata bene. E' questo che Luisa dice di sé, la mia intenzione non è orientata bene. Io non agisco per amore di Dio, ma vivo per amore di A Belardo. In ogni momento della mia vita, il Signore lo sa, ho più paura di offendere te che Dio. Desidero sempre compiacere più te che Lui. Non fu l'amore per Dio, ma il tuo ordine che mi spinse a prendere l'abito religioso. Se ho sopportato tutte queste sofferenze inutilmente, vedi come la vita che conduco sia infelice, anzi la più infelice di tutte. In futuro non mi sarà data nessuna ricompensa. E Luisa è diretta, lei sa benissimo che non avrà nessuna ricompensa del suo sacrificio nel monastero. Considerate che noi oggi siamo abbastanza convinti che la scelta monastica sia una scelta vocazionale. Cioè che alla fine se uno decide di fare il monaco o la monaca lo faccia perché dentro di sé ha un desiderio di farlo. Quindi al di là delle difficoltà inevitabili della vita monastica, non paragonabili a quella della vita coniugale, la persona lo fa perché c'è portato. Nel Medioevo non è così. La scelta monastica è una scelta, per carità anche lì ci poteva essere chi c'era più o meno portato, ma la scelta monastica è una scelta legata spessissimo all'intenzione di guadagnarsi punti per acquisire il paradiso. Il modello medievale ancora fino al XII secolo è molto ragionieristico. Cioè Dio si aspetta che l'uomo nella vita compie una serie di azioni che colmino il divario che c'è fra la speranza di acquisire il paradiso e la miseria dell'uomo. Per poter ottenere il paradiso non è sufficiente accontentarsi, come pensiamo noi, della banale misericordia di Dio. Cioè Dio tanto nella nostra cultura tutti andiamo in paradiso, Dio perdona tutti. Se non crediamo in un al di là, non c'è né paradiso né inferno, ma se crediamo in un al di là, ben difficilmente una persona anche di normale fede interrogata sull'inferno si dirà convinta che ci sia molta gente. Si farà un elenco di nomi, di politici, di vicini di casa e di gente che parcheggia la macchina vicino, ma sarà un elenco un po' messo così. Poi se gli si dicesse ma seriamente tu pensi che vanno veramente all'inferno perché alla fine probabilmente direbbe ma no, andranno in purgatorio, speriamo, ma dopo Dio salva tutti. Questa è la nostra cultura diffusa. Mai visto in un funerale in cui qualcuno abbia detto ma secondo me questo non ce la fa. Tutti dicono adesso starà là, sta meglio di noi, sta in cielo, sulla nuvoletta, ma perché tutti, anche quelli della vita non cristallina, quando siamo al momento del funerale vengono bonificati, vabbè siamo in Italia, paese dei condoni per cui condoniamo tutto, vuoi non condonarli in una vita così, però questa è la nostra cultura. La cultura medievale è diametralmente opposta. L'idea è che uno di suo va all'inferno, se non ci va è perché ha accumulato sufficienti pagamenti per non andarci. La cosa era così tragica che proprio in questo periodo si comincia a costruire il purgatorio, cioè gli uomini mettono in mezzo al giudizio divino fra paradiso e inferno un mondo di mezzo nel quale poter avere un certo dominio. Il purgatorio diventa luogo in cui gli uomini subentrano a Dio nel giudizio e quindi fanno sospendere il giudizio a Dio e procedono a pagare i debiti non sanati per tutto il tempo necessario. Entrare in monastero era quindi, soprattutto in quest'epoca di Abelardo ed Eloisa, ma poi anche nel XIII secolo, un modo molto comune per acquisire meriti. Tant'è vero, vi dicevo, era frequente che anche le coppie sposate, quando ormai i figli erano grandi e sistemati, si separassero e andassero liberamente a vivere in un monastero, con lo scopo negli ultimi anni della vita di guadagnare punti per il paradiso. Eloisa invece dice in futuro non mi sarà data nessuna ricompensa. Quello che io faccio qui non lo faccio per Dio, ma lo faccio per te. Quindi la ricompensa, l'unico che può dare una ricompensa sei tu. Dio sicuramente no, perché io per lui non ho fatto niente. Da lungo tempo la mia finzione ha ingannato te, così come molti altri, al punto che avete scambiato l'ipocrisia per devozione e per questo quando ti affidi soprattutto alla nostra preghiera mi chiedi proprio ciò che io mi aspetto da te. Non avere, ti prego, un'idea così alta di me da smettere di aiutarmi con le tue preghiere. Non volermi considerare così sana da sottrarmi l'aiuto delle tue medicine. Convinciti che ho bisogno di te, così non rinvierai il tuo aiuto ai soli momenti di necessità. Non ritenermi guarita affinché io non cada prima che tu faccia in tempo a sostenermi. Una falsa lode ha fatto male a molti perché ha tolto loro l'aiuto del quale avevano bisogno. Abelardo nelle sue lettere continua a dire a Eloisa che lei è la badessa del paracleto, che lei è una santa donna, che tutti parlano bene di lei e Eloisa gli dice facendomi queste lodi tu mi togli ciò di cui ho bisogno, il tuo sostegno morale e spirituale, la tua preghiera, perché non è vero che io sono così. La lettera è praticamente finita e la cosa piuttosto stupefacente di questa lettera è che non ha una vera e propria conclusione, al punto che alcuni, un solo codice in realtà, un solo manoscritto, riporta in fondo il saluto vale, classico saluto, cioè stai bene insomma delle epistole, ma in tutti quanti gli altri manca l'abituale saluto di chiusura. La cosa è abbastanza strana perché nelle lettere, era cosa assolutamente comune alla fine, salutare come si usa anche adesso, le lettere di Paolo finiscono tutte quante con un saluto, talvolta che è molto lungo, invece spesso Eloisa, in questo caso è evidente, chiude senza un saluto, in verità lo fa anche Abelardo, il perché forse è legato al fatto che questo epistolario è anche un po' costruito, cioè i due si scrivono sapendo probabilmente già di volerlo pubblicare questo epistolario, cioè che non resti un fatto assolutamente privato e intimo, ma che prima o dopo diventerà pubblico, anche perché se avessero deciso di non farlo diventare pubblico avrebbero distrutto i manoscritti, invece restano e l'epistolario diventa noto di lì a pochi decenni, quindi forse questa è la ragione per cui viene un po' a mancare il classico stile epistolare. Si chiude qui la lettera quarta e si apre la lettera quinta di Abelardo, anche questa molto metodica, quindi Abelardo dice mi hai fatto quattro accuse, adesso rispondo a tutte e quattro, la prima l'abbiamo vista, le altre invece ve le risparmiamo, ve le leggerete per conto vostro, ci sono poi delle cose abbastanza interessanti anche sulla simbologia medievale, però insomma non abbiamo il tempo di andare a vedere, e passiamo invece alla lettera successiva di Eloisa perché non ha ancora finito di prendersela col marito, diciamo classica moglie. Lettera sesta, la lettera sesta inizia con un incipit celeberrimo che ha fatto versare fiumi d'inchiostro e molto sibillino, in latino suona così, suo specialiter, sua singulariter, quindi la traduzione qui è a colui che è suo secondo la specie, colei che è sua individualmente. Traduzione un po' ampia ma cosa vuole dire forse Eloisa? Intanto specie e individuo sono due termini tipici e tecnici della filosofia medievale, soprattutto del dibattito intenso a quell'epoca intorno al concetto di universali. Ora fare un dibattito sulla teoria degli universali sarebbe un po' dispersivo, ma ve ne dico due cose tanto per orientarvi. Cosa sono gli universali? Sono dei concetti che esprimono quella che noi chiameremo un'idea di specie, cioè che raggruppano delle cose. Già, forse vi ricorderete qualcosa se avete fatto il liceo, delle idee platoniche. Platone diceva che esistono nel mondo di là le idee e il mondo di qua ci consente di vederle in forme specifiche che sono in qualche modo degradazioni di ciò che c'è di là, cioè il vero esistente è l'idea, ciò che noi vediamo è un'immagine, è il famoso mito della caverna, noi siamo, cioè voi siete lì seduti, qui vedete qualcosa, in realtà quello che vedete qui è un'ombra proiettata da qualcosa che vi si muove dietro e che alle spalle ha una luce e quindi voi avete l'impressione di vedere cose vere, cavalli, uomini, eccetera, ma la realtà sta dietro di voi. Quindi il mito della caverna dice questo. Quindi secondo Platone le idee sono la realtà e si trovano in un altro mondo, un altro eone. Aristotele rende un pochino più sofisticata questa cosa, esce dal mito e comincia a preoccuparsene da un punto di vista logico. Detto banalmente, la questione è questa, noi conosciamo tanti cavalli, ma siamo in grado anche di elaborare il concetto di cavallo. Il cavallo che cosa è? È un essere vivente che ha quattro zampe che se cominciamo a identificarlo descrivendolo ci accorgiamo che facciamo sempre più fatica, perché ci sono tanti estri viventi che hanno quattro zampe, cioè che cosa distingue il cavallo dall'asino, dall'onagro, dal mulo, cioè tutta una serie di distinzioni, ma quando arrivassi in qualche modo a identificare il cavallo per ciò che è, mi sarei fatto un concetto di cavallo, quella che si chiamerebbe la cavallinità, che fa sì che un certo individuo possa essere riconosciuto come cavallo. Il problema è un problema ancora importante, forse per i cavalli poco, ma per gli esseri umani sì, è molto rilevante, perché capire dove comincia l'uomo e dove finisce è un quesito che pone grossi problemi etici, giuridici, sanitari. Io devo sapere se la persona che è in stato vegetativo è ancora un uomo o non lo è più, perché se è ancora un uomo gode di diritti, se non lo è più può anche godere di diritti, ma non più dei diritti umani, perché non è più un uomo. Da che momento il frutto del concepimento è un uomo e gode dei diritti, per esempio può ereditare. Questo è un problema che va affrontato eticamente, ma anche scientificamente, ma ha a che fare col mondo degli universali, perché l'uomo noi abbiamo bisogno di estrarre, cioè di riportare gli individui a qualcosa di comune. Il tema medievale intorno agli universali è ma questi universali, questi concetti sono veri o sono solo parole? Allora c'erano i realisti che dicevano gli universali sono veri, un po' come pensava Platone, cioè esiste nella mente di Dio l'uomo. Gli altri, quindi i non realisti, i concettualisti, i nominalisti, dicono nuda nomina tenemus. Noi abbiamo solo nomi, quindi possiamo dire uomo, ma l'uomo come concetto non esiste, ciò che esiste sono individui, quindi sono dei singoli. Abelardo appartiene più al mondo dei nominalisti che a quello dei realisti, anche se la sua posizione è un po' mista ed è chiamata concettualismo, perché poi lui dice in realtà la singola parola non è sufficiente a definire il concetto, ci vuole una proposizione, ma lì entraremo in un mondo troppo complicato anche per me. Torniamo invece alla intitolazione di Eloisa che dice suo specialiter, sua singolarite, cioè al suo, quindi Abelardo, secondo la specie, la sua singolarmente. lei definisce se stessa singola rispetto ad Abelardo, cioè dice se anche secondo la specie io sono suo, lo sono secondo la mia singolarità, cioè sono monaca e quindi dipendo da, sono riconoscibile all'interno di un mio modello, di una mia struttura che è quella di essere monaca invece che donna, beh non sposata sì, invece che donna non monaca, laica, però singolarmente io non sono di nessun altro se non di Abelardo, per tutti sono monaca, per te sono Eloisa. Questa intestazione criptica è stata tradotta in tantissimi modi e quindi questo qui a colui che è suo, non ho l'altro testo, a colui che è suo secondo la specie, colei che è sua individualmente, probabilmente vuole dire questa cosa qui, ma ci vuole dire anche un'altra cosa, che Eloisa si rapporta con Abelardo sempre considerando l'elevatezza della loro relazione, ovvero non è la stessa cosa stabilire relazioni fra filosofi e stabilirle fra gente comune. L'elevatezza del loro epistolario sta nel fatto che siamo in presenza non di uno scambio di lettere di due persone che cercano di capirsi, ma uno scambio di lettere fra due filosofi che anche si amano e si amano in tutta la complessità che deriva loro dall'essere filosofi, cioè più una persona pensa, più le cose diventano complesse e se essendo complesse diventano anche estremamente più interessanti, affascinanti e attrattive, dall'altra sono anche meno gestibili. Se leggerete l'epistolario tutto intero vi accorgerete che i due continuamente si intorcolano in questi pensieri elevati, che hanno grandi attese l'uno dell'altra e che supportano le loro rivendicazioni con un'infinità di citazioni dotte, non si rapportano come due persone fini a se stesse, è un po' come se in ciascuno di loro stessero costruendo dei modelli, un po' come se fossero perfettamente coscienti che noi oggi siamo qui che leggiamo il loro epistolario. Lo scrittore, lo dico per esperienza, anche quando scrive una lettera privata ha sempre presente il suo essere scrittore, cioè in qualche modo dice manca mai che quando sarò morto e famoso perché morto qualcuno legga questa lettera, vorrei mica che ci metta un errore di ortografia, vorrei mica che la scriva male o che la butti giù un po' così, non sia mai, quindi anche in una lettera che magari io scrivo al lattaio per dirgli tre litri di latte grazie o anche nel messaggino che scrivo tendo ad essere corretto, anche se non lo leggerà mai nessuno, è un po' una fissazione mentale, però è evidente in questo epistolario che i due stanno scrivendosi l'un l'altra, però con la chiara concezione che saranno letti e la cura che c'è dietro è dovuta anche a questo, certo è la cura che l'uno deve all'altra perché sta rivolgendosi comunque una persona colta e di cui ha profonda stima, ma è anche una cura in qualche modo costruita, ma costruita con una retta intenzione, cioè l'intenzione che questo epistolario abbia un significato, abbia un'utilità, se ci pensate nasce da una confessione estremamente ampia e intima di Abelardo e procede con un confessare tutta la propria vita, cioè questi due qui si sono messi a nudo di fronte all'umanità intera e hanno creato un modello d'amore infelicissimo che però è estremamente attrattivo, hanno creato, hanno contribuito a creare, hanno ampiamente contribuito a creare il modello classico dell'amore contemporaneo, cioè l'amore corrisposto infelice e l'hanno fatto coscienziosamente. Veniamo dunque alla lettera sesta nella quale Eloisa scrive ho imposto il freno del tuo ordine alle parole del mio dolore illimitato perché tu non possa accusarmi di disobbedienza in qualcosa, quindi cioè Eloisa gli dice il mio dolore è illimitato, avrei da dirne finché sono stufa ma pongo un freno perché tu non possa accusarmi di disobbedirti in qualcosa, perché me l'hai detto tu. Così mi tratterrò dalle espressioni che ho usato nella mia lettera precedente almeno mentre scrivo, poiché fare attenzione a queste cose mentre si parla non è tanto difficile quanto impossibile, nulla infatti è così poco in nostro potere come le emozioni alle quali io sono costretto ad obbedire piuttosto che in grado di imporre il mio volere, quando le passioni ci tormentano nessuno può opporsi ai loro improvvisi attacchi al punto da impedire che esse si trasformino rapidamente in azione o sgorghino ancora più facilmente in parole, le parole infatti sono i segni più immediati delle passioni dell'animo secondo ciò che è scritto, la bocca parla per l'abbondanza del cuore. Allontanerò quindi la mano dalla lettera se non riesco a moderare le parole della mia lingua, volesse Dio che il mio animo addolorato fosse pronto ad obbedire come lo è la mano destra che scrive. Quindi Luisa dice se stessi parlando non riuscirei a trattenermi, ma siccome scrivo la mano destra la posso controllare, quindi mi tratterrò e non sarò così esplicita come nella lettera precedente, poi vediamo se ci riesce. Dammi almeno un qualsiasi rimedio per il mio dolore se non puoi eliminarlo del tutto, come infatti piantando un chiodo se ne scaccia un altro, così un nuovo pensiero allontana il precedente e l'animo se intento ad altre cose è costretto ad abbandonare il ricordo o almeno a tralasciarlo per un po'. Un qualsiasi pensiero occupa l'animo tanto più completamente distraendolo da altre cose, quanto più giudichiamo onesto ciò che pensiamo e quanto più ci rivolgiamo a pensieri che ci sembrano importanti, quindi chiede ad Abelardo di aiutarla anche nel concentrarsi su altre cose. Uno degli aspetti su cui Eloisa si soffermerà a lungo con Abelardo è la necessità, il desiderio ha insistito che Abelardo fornisca alle monache del suo monastero una regola, lei dice che quando è entrata nel monastero ha accettato la regola senza averla mai letta, senza conoscerla, c'è stata un'accettazione passiva ma così non va bene, dice che la regola deve conoscerla, deve accettarla ma soprattutto deve essere sottomesso a una regola che sia praticabile e quindi la sua accusa è che le regole comunemente utilizzate nei monasteri sono regole adatte a una comunità maschile e non a una comunità femminile e per dimostrare questo comincerà, prendendosi in mano, è una regola benedettina, da quella poi si statuiscono tutte quante le altre regole più specifiche, prende in mano la regola che attualmente stanno utilizzando e comincia a dimostrare che la regola è stata scritta da uomini per uomini, maschi per maschi, facendo riferimento a cose tipiche del mondo maschile. Altro aspetto di modernità in Eloisa, Eloisa comincia a rivendicare una specificità femminile e quindi dice che le monache devono avere una loro regola che sia su misura per loro, perché lei dice che le donne sono più deboli e quindi ne hanno più bisogno di essere, però e qui entra sulle questioni molto pratiche tipo le misure del vino, del cibo, la preghiera, tutte queste cose, cioè dice insomma ci sono delle quantità che vengono riportate sulla regola di Benedetto che non sono adatte alle donne, la condizione della donna è diversa e quindi c'è tutto quanto un elenco di cose su cui entra nel dettaglio, al punto che nelle lettere settima e ottava che sono entrambe di Abelardo, Abelardo darà a Eloisa una regola, la cosa curiosa è che poi Eloisa questa regola non la adotterà, la adotterà solo in parte, cioè ne tiene una parte della vecchia regola e una parte di quella nuova che gli manda Abelardo. Nel frattempo però Abelardo manda a Eloisa un foglio interessante, breve, due paginette, che è la, si chiama Epistola et fidei confessio ad Eloisiam, quindi la lettera di confessione di fede ad Eloisa. Cioè Abelardo a un certo punto della sua vita, dopo che è stato condannato in un concilio, in due concili, per essere sostanzialmente eretico o a rischio di eresia e dove non ha occasione o non vuole esplicitare la propria fede, lo fa scrivendo a Eloisa. Cioè lui che non fa, non cede a dichiarare esplicitamente la terminologia della propria fede davanti a un concilio convocato apposta per lui, lo fa scrivendo a Eloisa e le scrive questo. Sorella mia Eloisa, una volta a me cara nel secolo, ora carissima in Cristo, la logica mi ha reso odioso al mondo. Quindi lui ormai è vecchio, è vicino alla morte Abelardo e trae la somma della sua vita. La logica, quindi la sua specialità, la sua disciplina nella quale è stato maestro, mi ha reso odioso al mondo. Infatti, coloro che sono perverse e che pervertono, coloro la cui sapienza non è che perdizione, dicono che io superavo tutti nella logica, ma in Paolo, nella scienza sacra, ero molto debole. Questi uomini lodano l'acutezza del mio ingegno, ma mettono in dubbio la purezza della mia fede cristiana, perché, mi sembra, giudicano trascinati dall'opinione più che dall'esperienza. Non voglio essere filosofo al punto tale da disobbedire a Paolo. Non voglio essere Aristotele al punto da essere diviso da Cristo. Non vi è altro nome sotto questo cielo che mi possa salvare. Adoro Cristo che regna alla destra del Padre. Abbraccio con le braccia della fede colui che in quel corpo vergine di Maria, eletta dal Paracleto, compì cose gloriose e divine. Ricorda questo di me, affinché ogni sollecito timore e ogni preoccupazione abbandonino il tuo cuore e il tuo petto. Io ho fondato la mia coscienza sulla stessa pietra sulla quale Cristo edificò la sua chiesa. Ora ti dirò ciò che è inciso su questa pietra. E qua comincia il credo. E scrive il credo e lo dettaglia nella sua cultura teologica. Per cui non si limita a dire credi un solo Dio, Padre onnipotente. Dice credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo per essenza unico e vero Dio che nelle persone si manifesta come Trinità, ma sempre nella sostanza custodisce l'unità. In modo quasi esibitorio, Abelardo scrivendo questa confessione di fede a Eloisa, sapendo che poi verrà comunque pubblicata, dimostra ai suoi accusatori che lui non solo è pienamente cristiano, ma che è anche perfettamente in grado di spiegare nel dettaglio le ragioni per cui lo è e la sua interpretazione di quelli che sono i dogmi. Abelardo era temutissimo per questa sua capacità, cioè lui riusciva comunque in qualsiasi diatriba a vincere, perché aveva uno spirito logico e una rapidità di reazione che erano impressionanti. San Bernardo, vi dicevo, non oserà mai affrontarlo pubblicamente ed era San Bernardo. Qui Abelardo quasi a tirare le somme della sua vita, ci dice io sono stato considerato, sono stato odiato perché sono un logico e la logica mi ha reso odioso al mondo, sono stato accusato di essere filosofo ma non credente e adesso ti dico che io sono credente ma te lo dico da filosofo. E qua parte con una descrizione, un'analisi di ciò in cui crede che è pienamente ortodosso ma è anche esplicitato attraverso una forma precisa, dettagliata di teologia. Vabbè non ve lo leggo perché ve lo potete trovare. Conclude dicendo, questa è la fede nella quale credo fermamente, dalla quale ottengo la saldezza della speranza. Radicato in questa fede che salva, non temo i latrati di Scilla, rido delle vertigini di Cariddi e non mi fanno inorridire i canti mortiferi delle sirene. È interessante che poi in chiusura di questa dichiarazione di fede cristiana lui ci metta dentro anche la tradizione classica e quindi ti dice, beh io ti parlo anche di Scilla, di Cariddi e delle sirene, se irrompe la tempesta non mi scuote, se i venti ispirano non mi muovo, le mie fondamenta affondano in una salda pietra. Abelardo questa confessione di fede che sembra quasi una resa lo fa da persona pienamente cosciente di ciò che vale e quindi è sicuro anche che porterà questa fede fino in fondo. E ce n'è testimone Pietro di Cluny, l'abate di Cluny che lo convincerà a fermarsi al monastero invece che andare ad appellarsi dal Papa, che otterrà da lui la riconciliazione con Bernardo, la reciproca riconciliazione e che lo accompagnerà negli ultimi mesi della sua vita fino a poi a scrivere, come abbiamo visto la volta scorsa ad Eloisa, la lettera in cui annuncia che Abelardo è morto, che è stato seppellito lì e che la attende, cosicché Eloisa chiederà il corpo e Pietro di Cluny lo farà di nascosto esumare e portare al monastero dove c'è Eloisa, che quando morirà sarà sepolta insieme. Se andate a Parigi al Perl'Ascesa, al grande cimitero di Parigi, c'è la tomba di Abelardo e di Eloisa, che sono stati traslati lì con una bella tomba in pietra, con un tempietto sopra e ci sono i due sdraiati uno accanto all'altra nel loro abito monastico. Seguono la settima e l'ottava lettera di Abelardo, che hanno a che fare essenzialmente con le regole del monastero, ma in mezzo ci sono vari spezzoncini però interessanti per indagare ancora ulteriormente i rapporti fra i due, però sono frammenti abbastanza piccoli, quindi non ce ne occupiamo. Se poi, questa è l'edizione della Burr, che ha il testo latino a fronte, se qualcuno volesse leggersi in latino la loro conversazione. Non vi ho portato l'altro libro, ma ve l'ho fatto vedere la volta scorsa, l'edizione S.E. in fondo, in appendice, ha tutta una serie di lettere importanti che sono state scritte dall'uno o dall'altra o ricevute dall'uno o dall'altra, anche da interlocutori esterni, quindi lettere che vengono scritte, ma anche addirittura lettere che parlano di Abelardo, ma scritte da Guglielmo di Saint-Hierry che scrive a San Bernardo e Bernardo che scrive al Papa, una serie di documenti che, se li leggete, sono anche abbastanza corte queste lettere, vi fanno vedere proprio il mondo che c'è intorno. Ci sono lettere di Roscellino per esempio, che è stato il primo maestro di Abelardo, una lettera piuttosto virulenta contro Abelardo che ci dà la misura di qual era l'odio che si accumulava in certi conflitti accademici. Vi sono le lettere di Bernardo, di Guglielmo di Saint-Hierry al Papa preoccupatissimi dell'eresia che Abelardo sta seminando, quindi Abelardo in realtà non lo faranno mai santo, ma non viene considerato un eretico nella tradizione della storia della Chiesa, ma in un certo momento Bernardo, e lo sa da San Guglielmo perché Bernardo non è un teologo, quindi non è uno che legge le sottiglienze. Guglielmo di Saint-Hierry che era un cistercense, autore peraltro di alcuni testi mistici molto belli, si rende conto che la predicazione di Abelardo è una predicazione pericolosa. Avvisa San Bernardo il quale si agita e comincia a prendere le sue misure, scrivendo al Papa, intervenendo e ottenendo la convocazione del concilio per condannare le tesi di Abelardo. La cosa interessante, una delle cose interessanti in queste diatribe teologiche è proprio che la teologia che Abelardo sviluppa è una teologia che in realtà avrà successo, anche se poi oggi molti ritengono che Abelardo sia stato soprastimato, cioè che infine non abbia segnato in modo così decisivo la filosofia e la teologia medievale, in effetti in Abelardo ci sono forse non frutti diretti del suo ingegno, ma capacità di mettere a fuoco certi temi che saranno poi utili per il dibattito successivo, in particolare l'etica, potete essere non che ho portato neanche quel libro lì, ma il librettino dell'etica di Abelardo è pubblicato in italiano, è anche relativamente piccolo, quindi potete anche leggerlo per capire bene come si sviluppa il suo pensiero in tal senso. Il sic et non, quindi il libretto nel quale mette a confronto sentenze dei padri contraddittorie e cerca di trovare la soluzione per armonizzarle. Un po' più difficile invece la teologia del sommo bene che è il suo testo teologico fondamentale intorno al concetto trinitario. Infine, se volete approfondire un po' di più queste cose, vi ho già presentato questo libro di Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri che si intitola Eloisa e Abelardo, pubblicato negli Oscar Mondadori e lei, questa professore ordinario di storia della filosofia medievale, affronta in modo anche molto semplice, molto comunicativo e interessante un po' l'analisi dell'epistolario e della vita dei due, aggiungendo tutta una serie di informazioni molto utili per capire il contesto in cui sono vissuti. C'è un librettino della Sellerio che si intitola Di un amore senza fine, Eloisa e Abelardo, che affronta alcuni temi interessanti del dibattito, anche da un punto di vista un po' particolare, adesso sarebbe molto bello poter andare a vedere le diverse opinioni che si sviluppano nel tempo. Ma vi ho già consigliato, il libro più importante che dovete leggere è questo di Etienne Gilson che si intitola banalmente Eloisa e Abelardo e che è forse il libro più acuto nell'analisi della loro vicenda. Ma c'è una cosa che volevo dirvi, perché poi la troviamo in questo librettino qui. Nell'introduzione che Gilson fa a questo libro spiega perché si è occupato di Abelardo e di Eloisa e scrive Quando ho inserito nel programma dei corsi del Collegio di Francia nell'anno 1936-37 una serie di lezioni sulle origini medievali dell'umanesimo, non mi era difficile prevedere che mi sarei imbattuto in Abelardo. Così infatti avvenne. Al contrario, ero ben lontano dal pensare che avrei dovuto prestare ad Eloisa altrettanta attenzione che allo stesso Abelardo e che entrato nella loro storia avrei tanto penato a staccarmene non solo per il fatto che è una storia attraente, ma perché è come la pietra di Paragone che permette di saggiare i pregiudizi sul Medioevo e sul Rinascimento e di giudicarne il valore. Quindi dice, ho riassunto tutti quanti questi temi in questi capitoli di questo libro e poi conclude dicendo questo. Non giurerei, parla di un testo che ha trovato, dice Non giurerei che sia sempre fedele al pensiero di Eloisa, ma almeno quattro dei suoi versi sono tali che Eloisa stessa non si consolerà di non averli scritti, tanto dicono bene ciò che l'abadessa del Paracleto suggerisce a ogni pagina, senza osarlo dire. Stile, beh ve lo traduzco in italiano, ancora su quel petto innamorato lasciatemi giacere, ancora fatemi bere il veleno dei suoi occhi, ansimare sulle sue labbra ed essere pressata sul suo cuore. Dammi tutto ciò che non puoi, dammi tutto ciò che puoi e lasciami sognare il resto, lasciami sognare ciò che non puoi. Sono dei versi presi da un'epistola di Pop. Da qui Gilson parte per la sua indagine intorno ad Abelardo e va a leggersi i libri scritti sui due, quindi fa riferimento a un'opera di un certo Remusat e una di Charlotte Charrier, dicendo che sono testi interessanti ma che prendono dei punti di vista un po' particolari, quindi in particolare c'è un'accusa su Abelardo descritto come uno sventurato che commese in realtà troppi errori e troppo bassi perché meriti scusa. Alla fine di questa introduzione, Gilson ci regala un ricordo. Dice, ricordo ora il giorno quando nella sala dei manoscritti della Biblioteca Nazionale importunai senza vergognarvi un amabile erudito che mi era d'altronde perfettamente sconosciuto, ma che mi era stato designato come vittima dal suo abito di Benedettino. Lui è un giovane studente in questa biblioteca, vede questo Benedettino e gli va a porre una domanda. Volevo che decidesse sul posto e senza indugio del significato esatto dei termini conversazio e conversio nella regola Benedettina. E perché dunque, mi domandò infine, date tanta importanza a codeste parole? Il fatto è, gli risposi, che dal significato di queste parole dipende l'autenticità del carteggio di Eloise da Abelardo. Mai un volto riflette maggior stupore. Poi, dopo una pausa, disse, è impossibile che non sia autentico, è troppo bello. Né lui né io prendemmo questo giudizio per una prova, ma noi sappiamo bene che è vero. Perché quell'erudito Benedettino non parlava tanto della bellezza dello stile, quanto di quella di anime abbastanza grandi per essere state elevate a tali sofferenze, e a quell'altezza l'erudito ne sapeva meno del Benedettino. Vi ho letto questo pezzettino perché, volevo lasciarvi questa meditazione per casa, è interessante, credo, il fatto che una storia così tragica come quella di Eloise e Abelardo, produca ancora una tale fascinazione. Cioè, in fin dei conti, siamo stati esposti in queste nostre tre lezioni, poi vi dirò cosa faremo nella quarta, a una storia drammatica, che ha coinvolto non solo loro due, che al limite, vabbè, se la sono fatta e se la sono voluta, ma se ci pensate, in questa storia sono coinvolti il povero zio di Eloisa, che viene privato dei suoi beni, ridotto in miseria a causa dell'agguato teso ad Abelardo, i due degli aggressori di Abelardo evirati e accecati, il povero Astrolabio, figlio di Abelardo e Eloisa, abbandonato al suo destino, e di cui sappiamo ben poco, e poi, soprattutto, Abelardo e Eloisa stessi. Abelardo, in qualche modo, trova una sua giustificazione, una ragione per essere ciò che è, e Eloisa non la troverà, sembra, mai. In questa storia tragica, che produce solamente, apparentemente, disastri, invece, noi troviamo qualcosa, come dice questo Benedettino, di bellissimo. Questa storia deve essere vera, perché è troppo bella. E' interessante chiederci cosa c'è di bello in questa storia, ma lo lascio alla vostra meditazione settimanale. La prossima settimana prenderemo questo libro di Denis de Rougemont, L'amore e l'Occidente, che tratta, in realtà, di Tristano Isotta, e andiamo a vedere come la vicenda di Tristano Isotta la possiamo leggere in parallelo con quella di Eloisa e Abelardo. Grazie, ci vediamo lunedì. Grazie. Grazie. Grazie.